Le note dell'organo della chiesa di San Francesco come colonna sonora del film Mutuo l'Inferno. Prodotto nel 1911, ovviamente in bianco e nero, è stato il primo colossal del cinema italiano. La proiezione della pellicola, organizzata da Rotary Club Prato e Rotary Club Filippo Lippi, in una serata ispirata ai primi del Novecento, ha inaugurato il cartellone del Festival Zipoli. È un restauro che la Rotary ha effettuato nel 2018-19 e fu inaugurato poco prima della chiusura per pandemia. Ora è tornato a manifestare il proprio suono splendido. Siamo molto felici di averlo potuto restituire alla città e di poterlo fare in coincidenza con la visione di un film che ha molti significati perché è il settecentesimo anno dalla morte di Dante. Vediamo una delle gravissime trasposizioni cinematografiche della sua opera, segnatamente l'Inferno. L'esecuzione è stata affidata al maestro Ferruccio Bartoletti, che ha eseguito musiche ispirate al repertorio di Domenico Zipoli.